Amici di Fulvio e le sue ricette, eccoci di nuovo qua con Riccardo. Questa è una ricetta che volevo fare da un po' di tempo e invece il mio figlio oggi è venuto da me e mi ha detto Papà mi fai le... Fa le graffe. Vuole le graffette, le graffe. Allora, qui abbiamo gli ingredienti. Questo che cos'è? Latte. Questa? Farina. Farina 0 e 0,0. Poi questo è il... Zucchero. No, amore mio, questo è il lievito di birra. Ah. Poi questo è... L'uovo. Zucchero. Zucchero. Poi questo, sa? Sane. Poi il bu... Burro. E questa è la buccia... Uova. No, questa è la buccia di... Arancia d'oro. Arancia e limone, buonissima. Buonissima. Questi sono gli ingredienti che ci servono per fare le... Graffe. E andiamo in planetario. Ovviamente l'impasto lo potete fare anche a mano. Noi lo facciamo in planetaria con la foglia o lo scudo. Bene? Andiamo a preparare l'impasto. Allora, partiamo da cosa? Dalla farina. No, zero. Sì, aiutami. Mettiamo la farina dentro. Tutta la farina. Le farine ovviamente le mettete insieme. 0,0 e 0. Un farina. Adesso aggiungiamo metà di latte. Pap, 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 ecco. Questo solo. Lo mettiamo dopo. Adesso aggiungiamo l'uovo. L'uovo. Vai, verso l'uovo. Brevissimo. Sì. Adesso mettiamo lo zucchero. Il sale lo mettete dopo. Quindi prima lo zucchero. E poi il questo. Che cosa è? Il burro. Burro. Burro, bravo. E le scorzette le mettiamo dopo, pap, pap. Ah, ok. Va bene? Questo è sale. Questo è sale lo mettiamo dopo. Perché litigano il sale con il lievito, litigano. Quindi adesso mettiamo il lievito. Io devo fare. Sì, papà. Noi stiamo usando il lievito di birra secco. Aspetta, piano piano, eh. Noi stiamo usando il lievito di birra secco. Potete usare anche quello fresco. Ah, fresco. È uguale. Mi raccomando. Posso fare l'uovo? Guardate bene le tosse. Adesso impastiamo. Vai, gira la leva. E iniziamo ad impastare. Vedi? Uh, ah, ah. Che spettacolo. Adesso che impastiamo? Adesso tra un po' dobbiamo aggiungere le bucette e l'altro l'ante con il sale. Vedi? Stiamo impastando. Diciamo un po' di latte, vedi? Sì. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Basta. Adesso un po' stappiamo. Sì. Dobbiamo aggiungere il sale e tutto il latte. Lo rimane. Adesso fate sciogliere un po' il burro perché si va ad amalgamare. Poi successivamente aggiungeremo il sale e le scorzette alla fine. Dovete aggiungere il sale e tutto il sale e tutto l'acqua e l'acqua e il latte. Vai tutto il latte adesso. Aggiungi il latte. Latte. Tutto il latte. Ok, bravissimo. E adesso aggiungiamo anche, dobbiamo di mettere sempre pulito, mi raccomando. Mi raccomando. Adesso aggiungiamo le scorzette, vai. Niente, serve un cucchiaio. Vai prenderlo un cucchiaio. Vabbè, serve un cucchiaio. Dovete avere un po' di pazienza. Guarda, oh Riccardo, è un grande aiuto cuoco Riccardo. No, io aiuto. E' tutto. Vai così, mettete i piedi qua. E così, bravo, tutto dentro. Bravissimo. Bravissimo questo chef, questo piccolo chef. Ok, adesso abbassiamo la planetà. Devi schiacciare questo, schiacciare questo? Aspetta, non metta la mano lì. E abbassa così. E adesso, tira. Un giro solo. Ma c'è un minaccio. Ma papà, fa bene. Ma papà, non sai che ti diverso quando vado più veloce? Farina sul banco. Aspetta, aspetta. No, no, qua, qua. Con il mattare di qua. Io faccio anche io. E di qua ti devi mettere. Così, guarda. Togli le mani, no papà. Si stende con il mattarello. Ecco, adesso lo giriamo. Guarda. La bella mattarella e poi di nuovo mattarello. Vai, fino in fondo. Togli le dita da sotto. Ternate di fare la bua. Adesso di nuovo mattarello. La per costruire. Sì. Vai scorrere il mattarello. Brava. Ok, lui si lava le mani perché subito si sporca le mani e non va bene. Allora, il mattarello andiamo a stendere. Allora, forza Riccardo che ora dobbiamo fare le forme, eh? Sì, madre mia. Dobbiamo fare le forme. Le forme, le formine. Eh sì. Ma questa è un'anzona, non è la pizza questa. No, sto cantando un'anzona. E vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni, fai le graffe invece di cacare il canterino. Vieni. Ok, questo è lo spessore che dovete ottenere. Sì. Poi un po', se sono un po' più elastiche le ti darò leggermente un po'. Non posso. Allora, Riccardino, vai. Sforma. Sforma? Sforma. S-p-s-a. Aspetta, 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 aspetta. S-a. Vai, vai. Non è più. Vai, gira. Io, io. Devi aiutare papà, non ce la fai da solo. Io devo farlo. No, non l'hai fatta. Aspetta. 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 S-a. Fai il burrittino nel mezzo, vai. No, gira, gira. No, papà, devi girare. Eh. Gira di più, di più. Vai, vai, vai. Vai, di più. Lo devi togliere. Fai più forze. Bravissimo, così. Ah, visto? Ecco qua la graffetta. Adesso l'hai fatta. Allora, adesso le mettete a lievitare. Con la pellicola devono diventare grandi, grandi, grandi. Mmm. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.